La portata di questo disastro ha sopraffatto le autorità Le super tempeste funestano la regione, ostacolando i soccorsi Viviamo nell'incertezza Il futuro dipende dalle scelte che compiamo Con il continuo aumentare della popolazione si moltiplicano le megacittà Le condizioni estreme hanno provocato grandi esodi di massa Le basi dell'accordo erano in allerta Il sistema DEAD ha neutralizzato l'attacco quasi immediatamente Nuovi scontri tra manifestanti e forze dell'ordine hanno causato altre vittime Ebbene sì, questa è una nuova guerra fredda Anche se spesso non possiamo vederli, i nemici sono là fuori Sono Jacob Hendricks, il nuovo capo Questo è il ministro egiziano Said Preso in ostaggio dall'NRC due giorni fa Dopo le recenti rivolte al Cairo Vorranno farne un esempio Punirlo Noi dobbiamo impedirlo Tanto per chiarirci Se dovesse andar male Poi non esisterà L'NRC presto sarà qui Abbiamo un minuto per creare la madre di tutti i diversivi Ricevuto, deviazione traffico alla pista 1-1 Cargo 4-0-1-9 Carburante in fiamme sulla pista 1-9 Procedere all'atterraggio sulla pista 1-1 Confermare Ok, a te Ok, modulo di violazione inserita Ricalibrazione puntamento dead C'è qualcuno Bypass manuale dead Definire bersaglio Input confermato Dati di puntamento inseriti Torre, siamo stati agganciati Questo è un mezzo NRC alleato in Aleppo Qui non ci risulta Possibile che abbiate un guasto Fuoco Ora Fuoco Sistema dead in funzione Ingaggio Aprete la porta Oh merda State giù Diamoci da fare Taylor Diversivo riuscito Mezzo a terra Confermato Le sentinelle stanno andando a controllare Puntate al pacco Prendetelo prima che si rompa O che lo rompano Va bene Ci vediamo più tardi Confermato Lo schianto li tiene occupati Intanto con questi uniformi passeremo inosservati Almeno finché non apriremo bocca Allora tieni la cucina La stazione di sicurezza è di là Nei tunnel Una volta lì Potremo scoprire la posizione esatta del ministro Testa e armi basso Sangue freddo Fino al recupero Di seguo Non facciamoci vedere Non facciamoci vedere Non facciamoci vedere Taylor Siamo alla stazione di sicurezza Entriamo Ricevuto Hendrix Su coraggio Io sono pronto Disattivo gli allarmi del piano Tu collegati e trova il ministro Taylor Cerchiamo il pacco In attesa di riconoscimento facciale Altri ostaggi Pensavo ci fosse solo il ministro Sì anch'io Guarda quei poveracci L'NRC non va mai per il sottile Taylor Sapevi degli altri prigionieri? Il ministro è l'unica priorità Ricevuto Il prossimo feed Lasceremo che li torturino a morte Abbiamo degli ordini Negativo Eccolo È il ministro Lo spostano Dobbiamo scoprire dove lo portano Bingo L'abbiamo trovato Andiamo a prenderlo Tra quanto? Due minuti Due minuti L'icronometro La simpatia non è il suo forte Sembri parlare per esperienza personale Fidati È così Fidati Fidati Mitragliere, lassù! Ecco le celle, dietro di me! L'interrogatore dalle spalle alla porta. Due sentinelle con la guardia abbassata. Via! Siamo qui per salvarla! Faccia come dico e se la caverà! E il tenente Khalil? E gli altri? No, non c'è tempo. Khalil è stato un eroe della rivolta del Cairo. Sapete che questo lo rende molto prezioso per la loro propaganda. Lo faranno diventare un esempio. Cazzo! Ok, andiamo! Qui, è lui! Alla porta, ti copro io! Tiro giù quel poveraccio! Tiro giù quel poveraccio! Ministro! Khalil! Hendrix! Puoi combattere, Khalil? Sempre! Prendiamo un'arma da quell'armadietto e riprogrammiamola con i tuoi dati. Allora, io sono un'arma da quell'armadietto e riprogrammiamola con i tuoi dati. Allora, io sono un'arma da un'arma da un'arma da un'arma. Pronti a far fuoco! Oh, sono pronti! 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 Sei tu ad essere in anticipo! Oh, sono pronti! Che mi dite del recupero? Oh, sono pronti! 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 Oggi gli è andata male! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Il recupero avverrà oltre il ponte Ce li avremo sempre alle costole Abbiamo piazzato delle cariche per coprirci la fuga Le faremo saltare appena avremo... Occhio! Esploderà a momenti! Quei veicoli ci bloccano la sfotella! Andiamo! Inizio la festa! Non avevi la minima speranza... Rinforzi in arrivo dal ponte! Possiamo scordarci il ponte! Maretti, qual è il piano? Da cazzo! Piano B, facciamolo saltare! Andremo al recupero secondario! Taylor, recupero primario compromesso Passiamo al secondo Ricevuto appuntamento a Hotel Tango Useremo gli APC Ricevuto! Accedo ai sistemi elettrici dell'edificio Occhio! Abbiamo nemici multipli nella stanza comunicazioni Via le luci! Cosa? Vuoi farci combattere al buio? Più o meno Vi trasmetto il feed tattico Ricorda Loro non hanno visori notturni Con calma Uno alla volta Pronti! Spagliato pure La mia specialità Approfittiamone Disattivazione feed tattico Calmi Non sparate Ce l'ho E adesso? Quel Vito Ci blocca qui Siamo calmi Taylor Il recupero è alla torre satellitare Prenderemo un veicolo E ti porteremo là Non mi hai risposto, John Forza! Il punto secondario è più avanti Niente di che Avete sentito? Ve lo sei immaginato, Maretti? Mi sa che il cervello ti sta andando a puttana Ehi! Fanculo! Silenzio! Lo sento anch'io Ascoltate Porca puttana! Contatto! Contatto! Sono robot da salto a NRC Un mucchio di robot Dobbiamo aprire quella porta Dateci fuoco di copertura Dentro! Dai, dai, dai! Al punto di recupero Noi pensiamo ai robot Taylor, via libera Ce la caviamo Ci sono altri ostaggi Potreste liberarli voi? Non sono una priorità Lo so benissimo Ma sono pur sempre persone Cazzo! Ormai hai perso ogni briciolo di umanità Ok, cambio di programma Hendrix Voi preoccupatevi di portare il ministro al sicuro Noi torneremo per gli ostaggi Io guido Tu usa una torretta Occhio! Abbiamo un sacco di robot Che ce l'hanno con noi Fuoco su quel VTOL Occhio! Facciamo una deviazione Avvicina a destra Fuoco! Per la mira, cazzo VTOL in arrivo Attacchiamolo Merda! Questo affare si è fermato Un attimo! Hendrix Mettilo in funzione Che cazzo sto facendo Secondo te? Dai, parti, strozzo! Respingeli Questa merda Non può mollarci qui VTOL in funzione Ok, riusciti dalle palle Distruggi quel veicolo VTOL davanti a noi Vanno fuori VTOL in arrivo Trenta secondi Trasmissione coordinate di recupero Hendrix Versagli aggiuntivi al sicuro Portatevi al ministro Noi procediamo al recupero secondario Con quattro pacchi extra Ricevuto Esco di strada Recupero in vista Cazzo! Siamo troppo veloci È il nostro passaggio Primo passaggio imminente Tenetevi pronti Rinforzi NRC In arrivo da sinistra Ministro Tutto bene? A vicino a destra Fuoco! Sto bene Sto bene, vi prego Guardatemi via da qui Muoviamoci Andiamo via Presto! Respingeli Ci serve il ministro In posizione Il drone concentra il fuoco Su bersagli multili Facciamola finita gente Non mollare Manca poco Ministro quasi al sicuro Devi tenere a bada Quei bastardi Drone in posizione Pronto a recupero Libero Ti voglio subito qui Vieni subito qui Dai, dai, dai No, aspetta! Drone pronto a per negativo Spazio aereo compromesso No, no, merda! Vai alla PC Vieni da lì Subito! Taylor La mia squadra è ancora a regumero Altri robot NRC in arrivo Arriviamo Due minuti Tenete duro Non morirete oggi Saranno Non morirete oggi Non morirete oggi Non morirete oggi Ah 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 C'eran Hai Ah 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 Nooo! Ehi! Ehi, la camera è qui. Vieni tu. Ripeto. Ripeto. Ripeto.